Come mi decido a registrare un vocaletto, arrivano rumori molesti, ma insomma, vita di paese, chiacchiere sulla terrazza, ah no, come ti vorrei qua, anche sulla mia di terrazza, tu e Dio, tu e Dio e il minù e il gatto e i passanti. Allora, questa chiacchiera sul nuovo Sencia, perché quella sarà la costruzione, quindi realizzerò, ho fatto la partenza, così come vuole il progetto, perché mica me la ricordavo, se io dopo due secondi non ricordo nemmeno come ho fatto le mie di cose, che dico, ma questa da dove è uscita? E poi mi dite di scrivere i pattern, o di fare i tutorial, per adesso no i tutorial, abbiate pazienza, perché a me piace il vis-à-vis, cosa vi devo da dire? Perché per me è fondamentale ciancicare i filati, non sono una che insegna prettamente la tecnica di quello che conosce, ma la riflessione sui filati, sì, quello è importante, sull'uso dei colori, sull'istinto, sull'osservazione di quanto ci circonda, è quello che è, che mi piace, che mi passa bene, che voglio comunicare, che ci volete da fare. Insomma, allora, adesso la chiacchiera è colore dei ferri, perché parliamo sempre della natura dei ferri, dei materiali, delle punte, ed è tutto fondamentale, perché non tutti i materiali ci avvantaggiano la vita e il lavoro, anche se ci piacciono. Ad esempio, con questi ferretti di Tiger, che non ve lo so dire di che cosa sono fatti, sinceramente, il suono è tic-tic, è carino, come se fossero di plastica, sono rivestiti da una pellicola, bella resistente, perché io ci sto attenta, però ho un cane, un gatto, me la chiappano, butto in terra, no, butto, casca in terra, vabbè, insomma. Con alcuni filati mi sono trovata male, perché su quel rivestimento i trattamenti eseguiti sui filati, quindi certe, non tutte, ma certe pre-paraffinature, entrano in conflitto tra loro, e io mi devo fermare ogni tre secondi per lavare i ferri, perché ricordo che i ferri da maglia e gli unciniti vanno lavati, ma soprattutto i ferri e gli unciniti tunisini, dove scorre il filato, e dove le nostre mani ciancecano nel tratto di ferro di attrezzo, dove poi deve scorrere il filato, perché spesso patiamo, proprio perché abbiamo i ferri da lavare, semplicemente i ferri da lavare. Allora, in questo caso, con i filati che ho scelto per adesso, questi ferri mi vanno bene come punta, mi vanno bene come materiale, tutto scorre, e mi piacciono come colore, è un giusto contrasto con quello che sto facendo, ma entrano anche in armonia, i due marca punti, idem, mi servono due colori in contrasto, perché devo fare due cose differenti, la minua baia, gli operai, del gas, della dilimpettaia quasi, e quindi mi devono aiutare, come si scelgono i colori dei marca punti quando sono pochi, ma anche quando sono tanti, ma che ognuno, cioè ogni totte, c'è quel marca punto che deve fare, deve ricordare quel momento, l'altro marca punto deve ricordare un altro momento, e poi c'è il marca giro. Allora, dedichiamo il medesimo colore al punto dove dobbiamo ricordarci di fare la stessa cosa, manca dirlo, ma a volte invece serve dirlo, perché chi non l'ha ancora fatto si trova spesso così impreparato al riguardo, quindi lo stesso colore per le diminuzioni, lo stesso colore per gli aumenti, lo stesso colore per quel tipo di accavallamento, in quel punto dove dobbiamo ricordarci cose specifiche. E io mi sono scelta un bel giallo, è lo stesso viola dei ferretti, è un ciccino in più scuro, che entra in armonia con il filato, però quel filato, uguale ai ferri più o meno, è mescolato insieme a un altro, quindi non mi fa diventare pazza. Ecco, quando noi... Perché servono tanti i ferri? Ma i ferri servono tanti anche perché il colore del ferro deve aiutare il lavoro, non lo deve ostacolare, non ci deve ballare la vista nel senso negativo, non che vediamo meglio, notiamo i particolari, ma ci balla la vista che non capiamo bene dove inizia il punto, dove finisce. Quindi i ferri devono avere un colore diverso dal nostro lavoro, possibilmente in contrasto e magari anche gradevole come contrasto, in armonia. Pare brutto? Anche no. E ci aiuta a stare bene, ecco. Perché, ad esempio, ci sono dei ferri che sono bellissimi, che io magari consiglio a chi deve promuovere un lavoro, a chi vuole mostrare un lavoro in fase di... in cantiere, diciamo, a chi ha delle vetrine da allestire, perché sono belli e fanno belle le vetrine, quindi quei bei ferri un po' tutti variegati. Avete presente come le matite, i pastelli di legno, quando hanno le mine multicolor? Ecco. Quei ferri lì sono belli da vedere, sono di legno, oh, sì, di legno. Costano un patrimonio. A me fanno venire la nausea come un mal di mare, perché mi balla tutto sotto gli occhi e mi rallenta il lavoro. Io ho problemi di vista nel senso, a parte che sono cecata da vecchiaia, mi manca il senso di profondità e ci sono delle cose, dei colori vicini che mi danno fastidio. Quindi, quei ferri, magari, che vi costano anche tantino e vi impegnate a tanti soldini, cercate magari di considerare quali sono i colori che usate prettamente e allora cercate il ferro variegato che entra meno in contrasto col vostro gusto filato. Li abbiamo visti sui toni del senape, li abbiamo visti sui toni dei grigi, li abbiamo visti sui toni del blu. Ecco, se siete persone che già lavorate molto i colori scuri o fate fatica a lavorare i filati scuri e vi prendete quei ferri, poi mi dite come ci siete arrivati in fondo ad un lavoro. Quindi, punte, materiali, colori. ecco, colori. Poi io in questo momento voglio fare una cosa allegra, ho voglia di fiori, di primavera, guardate nel cielo, a parte la tettoia brutta dei miei vicini ancora, ma vedete, fa freddo. Noi questa mattina alle sette eravamo a meno tre, siamo nel Lazio, il mare non è tanto distante, però fa freddo e quindi, e quindi, e quindi bisogna fare cose che ci facciano star bene, che ci facciano sperare in bene e anche preparare se sono dei regali, se sono cose per noi, ecco, preparare capi che, sì, in primavera ci fanno allegria, ma ci diano anche quello che ci serve e magari il tepore. Adesso, nel prossimo vocale, chiacchiererò di come gestisco i materiali quando ne ho diversi che voglio assembrare, in virtù della stagione che voglio considerare, delle temperature, ecco, come li distribuisco, come cerco di non penalizzare, al di là dell'armonia, ovviamente, dei colori, ma come cerco di non penalizzare la natura dei filati, un buon cashmere non mi può servire solo come punto colore, mi prenderei a pizze, ecco, a meno che non ne abbia veramente tantissimo, sia sottilissimo, ma comunque è un gran sacrificio. Ecco, il prossimo vocaletto parleremo di quello, analizzando quello che ho messo, vedete, in questa borsina, che è quella che conteneva la mia bellissima calla, che è adesso qua, alle mie spalle, nella finestrella, mi bevo la mia tisana, che era bogida, e poi preparo il prossimo vocaletto sulla gestione dei materiali, poi arrivo a parlare anche, vedete, della, come la secciama, adesso ve lo dico, aspettate, mamma mia, oimè, oimè, ho la spessita, la cascade, dolcezza, vabbè, per chi non è passato per quei vocali, oimè, 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 è il lamento tipico della spezzina, spezzino, anche maschiette, a che ve credete, ma le signore che si incontrano, dopo aver fatto la spesa al mercato, e si incontrano all'autobus, e posano per terra le borse, perché il carrellino pare troppo chic, si ammazzano le donne, a volte non so perché, posando le buste per terra, incontrando poi la voce, prima dello sguardo, che mi dava che tiri sulla schiena, della compaisana, della compalazzara, di dove sta, ecco, e inizia alla fine, proprio tanta simpatia, fuori i miei concittadini, che spesso sono anch'io un po' così, oggi poi, che è il post legna, ecco, mi sembra di stare, ecco, ragazza di nuovo, io che quel problema lì non ce l'ho più da, quasi vent'anni, perché a volte perdo il conto, no, è dal 2004, inizio 2005, oddio, ho perso il conto, non me lo ricordo, ecco, che sono proprio vecchietta, avete capito signore, è vero di cosa sto parlando, ecco, per me oggi è il primo giorno, un po' a pezzi, in quel mondo lì, perché i miei addominali, ho chiesto in giro se qualcuno l'aveva trovati, ma mi hanno detto tutti di no, qualcuno mi ha detto però che ha trovato il punto vita, me l'ha riportato, bene, bevo la tisana e poi chiediamo dei filati, come si gestiscono i filati per non sacrificare le qualità, ciao!